Roai ricambi industriali La ditta Roai opera nel settore delle forniture industriali e dei ricambi per macchine e movimento terra. Dispone a magazzino in pronta consegna di articoli di trasmissione quali cuscinetti, supporti, cinghie, pulegge, pignoni, catene, motoriduttori e rulli. Articoli per oleodinamica e pneumatica, elettrovalvole, cilindri, guarnizioni, distributori, manometri, motori idraulici, raccordi, tubi idraulici per media, alta e altissima pressione. Raccorderie vari, serbatoi per centraline, steli cromati e canne lappate, ventose e pompe vuoto. Articoli per sollevamento, ganci, funi, catene, brache in poliestere e paranchi. Articoli per macchine e movimento terra, filtri aria, olio, gasolio, lame per ben anti-usura, denti per lame e pastiglie. E ancora, freno e ferro di anche a misura. Articoli tecnici e plastici industriali, utensilieria, prodotti chimici e lubrificanti, bullunerie varie, UNC, UNF, fascette in acciaio e plastica. Grazie.